allora molto bene per cui oggi in questo nuovo appuntamento con passione inter punto com parliamo di mercato parliamo del capitolo esterni quindi di quello che sta succedendo o di quello che ci aspettiamo soprattutto che accadrà da qui alle prossime settimane sulle fasce un ruolo molto importante nello nel gioco che sviluppa antonio conte un ruolo come ripeto spesso al momento la batteria degli esterni dell'inter non è secondo me all'altezza delle ambizioni di un inter che vuole tornare a lottare per il vertice lo vuole fare in tutti in tutte le competizioni lo vuole fare ad altissimi livelli per cui facciamo un punto della situazione partendo da quelle che sono delle notizie che hanno fatto molto discutere oggi che sono uscite oggi le abbiamo commentate nel gruppo telegram di passione inter punto com perché è spuntato era già spuntato nei giorni scorsi in maniera un po più velata adesso oggi si sono esposte due fonti molto importanti parlando di ashraf hachimi laterale classe 98 spagnolo di origine marocchina e nazionale marocchino con cui ha una trentina di presenza nella nazionale maggiore quindi un profilo nonostante la giovanissima età già di esperienza a livello internazionale eh di proprietà del real madrid in prestito biennale al borussia dortmund dal duemila e diciotto quindi un prestito che scade quest'anno già l'anno scorso la prima stagione in germania aveva fatto molto bene quest'anno è diciamo definitivamente esploso a livello internazionale lo abbiamo visto anche eh sulla nostra pelle eh dell'inter e quindi eh qual è la notizia spuntata rilanciata diciamo così nelle ultime ore innanzitutto dal quotidiano spagnolo una fonte comunque autorevole vicina alle vicende di casa real madrid eh innanzitutto allo stato attuale delle cose il primo luglio a chi mi torna di proprietà del real madrid perché c'è il contratto con il Borussia Dortmund che sta che scade il trenta giugno poi probabilmente si troverà un accordo per restendere questo prestito fino a fine stagione perché tanto real madrid non potrebbe eh giocare nei mesi di luglio agosto quindi potrebbe chiudere la stagione eh al Borussia Dortmund ma poi comunque al momento dovrebbe tornare alla base al real madrid dove però il futuro è piuttosto incerto eh innanzitutto perché perché Zidane eh si sa di avere tra le mani un profilo molto interessante un profilo che fa gola a tantissimi top club e il real madrid che sta anche ringiovanendo la rosa di certo delle valutazioni deve farlo avendolo già in casa un profilo così importante però per Zidane Carvacal è di fatto un titolarissimo che rischia di eclissare un talento come Achimi che infatti da quello che ha fatto capire non vuole tornare al real madrid se tornare al real madrid significa fare il panchinaro detto in parole molto povere eh per questo sta valutando delle possibilità anche al di fuori del real madrid il Borussia Dortmund come vedevamo anche sul nostro sito passione inter.com ovviamente vorrebbe trattenerlo farebbe se lo terrebbe molto molto volentieri come ha detto anche il tecnico eh del Borussia eh il quotidiano spagnolo AS ha parlato di un possibile futuro in Germania ma al Bayern Monaco che si sarebbe mosso molto concretamente secondo il quotidiano spagnolo eh addirittura sarebbe in pole position netta per questo giocatore eh questa pole position è stata smentita nelle scorse ore dalla build un altro quotidiano autorevole sponda tedesca vicino alle vicende di casa Bayern quindi questa notizia che è stata un po' rimpallata sul Bayern al momento non trova conferme in terra eh tedesca da entrambe le fonti poi sono state aggiunte aggiunte altre concorrenti e altre società interessate al giocatore Alachimi in particolare il Manchester United ma anche l'Inter che da entrambe le entrambe le società entrambe le fonti scusate viene segnalata con una società interessata e che sta valutando da vicino il giocatore una notizia che ovviamente ha fatto eh scatenare i tifosi interisti sui social nel nostro gruppo telegram passione inter.com non abbiamo parlato tanto eh per cui abbiamo ovviamente deciso di approfondire la questione di cercare di trovare notizie di prima mano noi di passione inter.com per fare un punto della situazione per capire cosa c'è di vero eh diciamo che fonti vicine al giocatore mi dispiace deludere i sogni di chi spera nel colpo Akimi un profilo sicuramente molto molto interessante fonti vicino al giocatore ci hanno prontamente smentito contatti diretti per Akimi quindi fronte giocatore ci dicono che non c'è nulla di di concreto eh ciò non esclude però va detto questo che l'Inter possa aver avuto comunque dei contatti tramite magari degli intermediari che abbiano lavorato eh bypassando il calciatore trattando magari cercando di carpire con Real Madrid società che detiene ancora eh che controlla il cartellino per capire appunto la situazione qual è la situazione di Akimi che intenzioni ha il Real Madrid quindi questo non è escluso e non lo possiamo neanche confermare eh semplicemente facendo delle valutazioni abbiamo deciso comunque di mettere al momento il nome di Akimi nella categoria dei sogni difficilmente realizzabili per due motivi innanzitutto la valutazione del cartellino che eh nonostante la crisi e tutto quello che sta accadendo sicuramente si aggira sopra i 50 milioni di euro si è parlato addirittura di 60 milioni di euro in Spagna eh e ci pare di capire anche tra quelli visti quelli che sono state le notizie che ci sono arrivate e i vari commenti che abbiamo ricevuto su questa ipotesi che alla Serie A Akimi preferirebbe la la Premier League quindi è una pista che mettiamo nella categoria dei sogni molto difficili anche se comunque pure in Germania segnalano l'Inter in corsa quindi teniamola con un piccolo asterisco teniamola in corsa a prescindere da Akimi comunque la notizia che vi possiamo dare questa è una notizia verificata che ci arriva a noi di Passione Inter punto com e che spero penso possa far felici molti tifosi o comunque speriamo anche noi che si possa concretizzare da quello che ci risulta comunque che ci viene detto tra le righe confermato anche con il nostro staff mercato è che l'Inter ha tutta l'intenzione ha pianificato nelle proprie idee eh programmando il prossimo mercato eh di completare questa sessione di mercato con un investimento molto importante eh quindi un profilo di grande rilievo sulla fascia eh le corsie diciamo sono state quindi individuate da quello che ci risulta come eh uno dei reparti prioritari in cui intervenire per fare poi un upgrade quindi almeno un colpo di spessore eh ce lo aspettiamo questa è una notizia che vi diamo noi di Passione Inter punto com che riguarda quindi le le fasce Akimi come detto ci sembra molto difficile si è parlato molto di João Cancelo che per motivi soprattutto economici però al momento secondo me è fuori portata a meno che il City come sapete il City è a rischio concreto di non poter partecipare alle prossime competizioni europee e quindi a meno che non apra a delle formule a delle soluzioni eh molto appetibili e convenienti per l'Inter vedo anche João Cancelo un profilo eh difficile ehm in generale comunque eh teniamo d'occhio profili di spessore importante eh e terrei d'occhio personalmente in modo particolare la Premier League perché l'Inter con Conte soprattutto ha pescato molto in Premier Conte apprezza molto eh il tipo di calciatori che vengono che si impongono in Premier League quindi ci aspettiamo altri affari eh sull'asse Milano-Inghilterra quindi eh teniamo d'occhio questa ipotesi in questi giorni non a caso proprio per questo motivo si è parlato molto anche di Hector Beyerin spagnolo classe novantacinque eh un veterano dell'Arsenal nonostante un'età comunque eh abbastanza giovane diciamo potrebbe essere idealmente uno dei profili da tenere d'occhio sia per caratteristiche spessore internazionale eh e eh profilo di giocatore diciamo eh il problema è che l'Inter lo monitora da quello che ci risulta comunque l'Inter sta osservando da vicino la situazione se ne è parlato anche in Inghilterra di questo il problema è che ha un contratto ancora molto lungo con l'Arsenal quindi eh bisognerà trattare in maniera concreta diretta proprio con l'Arsenal contratto fino al duemila e ventitré la notizia che è arrivata nei giorni scorsi è che eh l'Arsenal stava pensando alla possibilità di offrirgli un rinnovo lui per il momento ha messo tutto in stand by perché vuole capire quale piega prenderà il progetto Arsenal con l'arteta in panchina quali sono le intenzioni dell'Arsenal quindi questo spiraio ha fatto eh drizzare le antenne alle varie società l'Inter risulta essere eh tra queste eh vediamo se ci saranno gli spiragli per tentare un un assalto quindi a Bellerin teniamo anche questo come uno dei nomi monitorati comunque noi ripetiamo eh di certo ci aspettiamo almeno da quello che abbiamo captato un rinforzo importante sulle fasce quindi per intenderci un titolare sulla fascia dovrebbe arrivare poi nei prossimi giorni ovviamente cercheremo di portarvi maggiori dettagli soprattutto di capire qual è il nome concreto su cui l'Inter ha eh intenzione di lavorare eh molto dipenderà sicuramente da quelle che sono le occasioni che si andranno a creare perché il mercato evolverà eh questo sarà un mercato molto particolare in cui ci vorrà molta pazienza in cui si presenteranno sicuramente delle occasioni per cui ci possono essere nomi che al momento non vengono neanche presi in considerazione ma che poi improvvisamente si liberano anche perché lo ripetiamo e chiudiamo eh da il mercato aprirà il primo settembre si chiuderà il 5 ottobre in Italia quindi le operazioni si concretizzeranno in quella finestra di mercato lì di mezzo c'è eh un mondo può succedere veramente di tutto per cui eh vediamo quali saranno le le prossime mosse e vedremo cosa succederà intanto queste sono le notizie che abbiamo raccolto fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate chi vorreste quale sarebbe secondo voi il profilo giusto con cui rinforzare eh la rosa di mister Antonio Conte e ovviamente iscrivetevi al nostro canale YouTube al nostro canale Twitch seguiteci su Instagram Facebook e Twitter sosteneteci eh con i vostri feedback e i vostri commenti